Parte l'avventura della Juniores dell'Ovidiana Sulmona che si appresta a partecipare al prossimo campionato regionale d'elite. La squadra è stata affidata al tecnico Gino Bianchi che dopo i trascorsi recenti nel settore giovanile dell'Olimpia Cedas ha accettato di buon grado la proposta di allenare la Juniores per proseguire nel lavoro incentrato alla crescita dei giovani. Il progetto ormai lo conosciamo tutti, è quello di valorizzare i ragazzi locali e quindi sarà mio compito fare in modo che questo progetto io lo possa sviluppare al meglio anche perché la società mi mette a disposizione i migliori mezzi e i migliori ragazzi della zona. La squadra ha cominciato la preparazione allo stadio Pallozzi per proseguire al campo di bagnaturo. C'è una squadra innanzitutto composta dalle riconferme della nostra Juniores dello scorso anno con cui abbiamo ottenuto la salvezza. In più ci sono dei ragazzi usciti dall'Olimpia Cedas classe 2001 che hanno fatto un ottimo campionato di allievi regionali lo scorso anno e in più ci si aggiungeranno anche ragazzi di alcune realtà, insomma limitrofe del luogo. Spiccano le conferme di Parao, gioca Presutti, De Benedictis, Camilli, Balassone, Meo, Petrella, Di Pardo e Marchionda. Dall'Olimpia Cedas sono arrivati 2001, De Vincentis, Verrocchi, Del Prete, Almonte e Carusi. Tra i volti nuovi ci sono anche Arquilla e Bonanno rispettivamente classe 2000-2001. L'organico riteniamo che sia valido, però il nostro obiettivo non deve essere quello di ottenere dei risultati a cui sicuramente miriamo ma il nostro obiettivo è quello di preparare i ragazzi per potersi integrare quanto prima con la prima squadra. Quindi i ragazzi pronti verranno subito inseriti in prima squadra. La società è convinta che il lavoro porterà frutti positivi con la sinergia tra Juniors e prima squadra. In questa ottica è stata compiuta la scelta dell'allenatore. La scelta giusta anche perché il mister della prima squadra è Joachim Spina, quindi loro sono due mister che hanno lavorato spesso insieme e che puntano a una collaborazione forte per far sì che Juniors e prima squadra siano un gruppo unico che andranno a premiare soprattutto i migliori giovani del territorio. Noi abbiamo avuto la fortuna di lavorare con il presidente Ivan Gianmarco, con la Cedas e quindi ha voluto che noi, sia io che Mister Spina, portassimo avanti questa progettualità. La Juniors sul Monese ripartirà dall'esperienza maturata nella scorsa stagione con la salvezza ottenuta grazie al nono posto e ai 31 punti totalizzati. L'obiettivo per il campionato? Alzare l'asticella rispetto allo scorso anno. Lo scorso anno ci siamo salvati, quest'anno dobbiamo alzare l'asticella anche se l'obiettivo della Juniors non deve essere quello di vincere campionati, bensì di formare giovani, renderli pronti per la prima squadra. Cosa significa per voi partecipare di nuovo al campionato Elite? Sicuramente è un campionato importante, è un motivo d'orgoglio per i nostri ragazzi partecipare al campionato Elite. Ho potuto notare nei primi istanti di questa preparazione già molto entusiasmo, molto entusiasmo anche da parte della società che ci ha dato una grossa iniezione di fiducia, una società giovane che punta sui giovani e che vuole che si faccia un campionato di Juniors Elite di tutto rispetto. L'Ovidiana Sulmone è stata inserita nel girone A del campionato Elite insieme ad importanti realtà abruzzesi. Il campionato l'ho seguito l'anno scorso in alcune occasioni, ho visto che il livello è abbastanza alto soprattutto perché le squadre il lunedì riescono a far scendere diversi giocatori che militano già in prima squadra. Il nostro obiettivo è fare bene, poi non è mai bello poter fare delle promesse, ma io sono convinto che con questo gruppo, siccome so che lavoreremo bene, ci toglieremo delle grosse soddisfazioni.